Giorasses Jacket, Giorasses Pant è il nostro completo per le condizioni difficili e condizioni estreme di alpinismo. È stato sviluppato con una nuova membrana di gore, wind stopper, water resistant, quindi si può utilizzare, ed è concepito per essere utilizzato in tutte quelle condizioni estreme in montagna, dove abbiamo umidità, neve, freddo, vento, sia per la cascata di ghiaccio, sia per le uscite in alta montagna, pareti nord, tant'è vero che il nome che abbiamo scelto ricorda una delle pareti più famose, pareti nord delle Alpi, ed è voluta questa cosa. Può anche essere utilizzato con gli sci per le uscite di sci alpinismo con condizioni difficili. La grande caratteristica di questo rispetto alle membrane che erano sempre presenti ora sul mercato è l'estrema traspirabilità, quindi un atleta, un alpinista che vuole muoversi in velocità e quindi produce più calore ha bisogno anche di molta più traspirabilità. Ecco questa nuova membrana che è resistente all'acqua, però ti dà grandissima libertà di movimento, grandissima traspirabilità, quindi con un risparmio energetico e una performance migliore. Il pantalone è completamente termonastrato per l'impermeabilità e il posizionamento delle stasche è stato volutamente posizionato più in basso in modo che l'imbrago non disturbi l'utilizzo delle tasche. Quindi Giorasses Jacket, Giorasses Pant è il completo ideale per tutti gli alpinisti che vogliono muoversi in libertà. È stato sviluppato con Ulistec, quindi c'è anche molto del suo in questo completo. Se va bene a lui credo che possa andare bene a parecchi alpinisti.